Le condizioni in cui versa la struttura ospedaliera di Sant'Arsegna, la relativa necessità di indire le gare d'appalto per i lavori necessari alla struttura stessa e la possibilità che entro la fine dell'anno venga disattivato il punto nascite dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Sono solo alcuni dei punti trattati nel documento firmato dai sindacati CGL e FIALS e dal Comitato Curo ed inviato al Presidente della Regione Campagna Vincenzo De Lucchi e al Direttore Generale dell'ASL Salerno Antonio Giordano. A quest'ultimo i sindacati di categoria e il Comitato Curo nel marzo del 2017 ricordano di aver lamentato la mancata assegnazione di fondi per gli investimenti sanitari relativi al primo straccio che dovevano essere destinati agli interventi più urgenti, utili a ristrutturare il presidio ospedaliero di Sant'Arsenio e all'eventuale implementazione del presidio ospedaliero di Polla, sia in termini di ristrutturazione che di potenziamento operativo. All'epoca dei fatti, si legge sul documento, il Direttore Giordano giustificò le proprie scelte affermando che per gli strettissimi tempi assegnati avevano imposto l'inoltro dei soli progetti esecutivi canteriabili presenti agli atti degli uffici tecnici aziendali, ma aveva rassicurato in merito all'inserimento dei successivi stracci. Ad oggi, rimarcano sindacati e comitato, non è dato sapere se gli uffici competenti si siano attivati per la realizzazione di quanto promesso. Mancano anche gli atti di indizione di gara relativa ai lavori di riqualificazione ed adeguamento antincendio dell'ex presidio ospedaliero di Sant'Arsenio, inseliti nella delibera dell'ASL del 26 ottobre scorso. Denuncia ancora il documento nel quale inoltre si legge, la mancata conoscenza delle effettive esigenze del territorio e in particolare dell'ex presidio ospedaliero di Sant'Arsenio ha fatto sì che non siano stati finanziati prima di ogni cosa gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria, tesi alla conservazione dello stabile dove da tempo sono presenti abbondanti infiltrazioni di acqua piovana dovuti alla faticenza della struttura sanitaria. In merito all'ospedale di Sant'Arsenio, CGL, Fialz e Curo chiedono che si intervenga con urgenza e determinazione per dare risposte immediate alle istanze presentate. Per la struttura sanitaria di Sant'Arsenio viene chiesta l'attivazione immediata delle procedure per l'indizione dei lavori e per la progettazione definitiva relativa ai successivi stralci. Saremo estremamente vigili, termine il documento, per evitare l'ennesima strumentalizzazione ai fini elettorali. Grazie. Grazie.